Ciao, sono Nicoletta Cannone e sono il presidente del corso di laurea in Scienze dell'Ambiente e della Natura delle Università degli Studi dell'Insubria. Il nostro corso di laurea è un corso per chi ha passione, amore per la natura, ha voglia di fare qualcosa, non solo di studiare, ma di agire. Perché? Perché il nostro pianeta è caratterizzato da una meravigliosa biodiversità, una ricchezza irripetibile, qualcosa di fantastico. Però purtroppo questo mondo meraviglioso è in pericolo. Chi costituisce la principale minaccia per la salvaguardia del nostro mondo? Purtroppo siamo proprio noi. Lo scienziato ambientale, quindi, non si occupa solo di studiare il bello del mondo della natura, ma si occupa di analizzare, capire, risolvere e gestire i problemi dell'ambiente, per dare un futuro sostenibile non solo a noi, ma alle prossime generazioni. Se ti interessano questi temi e hai voglia di contribuire al futuro del nostro pianeta, noi siamo qui, ti aspettiamo. Scegli Insubria, scegli oggi, il tuo domani. Ciao, sono Sara, studentessa del secondo anno del corso di laurea in Scienze dell'Ambiente e della Natura. Ho scelto Insubria perché posso stare in mezzo alla natura. Ho avuto l'occasione di toccare con mano e vivere davvero sul campo tutte quelle esperienze e tutti quegli elementi che ho sempre studiato sui libri. Grazie alla preparazione dei docenti ho avuto l'opportunità di essere presente, quindi di essere un elemento partecipe per quanto riguarda il futuro del mondo e il mio futuro. Scegli Insubria, scegli oggi, il tuo domani.